Amici dello sportello del cittadino ci troviamo a Taranto in via Oberdan. Nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere come gli alberi entrino in casa in via Pisanelli ma purtroppo la situazione è analoga e praticamente identica anche in via Oberdan. Gli alberi non vengono affatto potati e l'assurdo è che tanti alberi in buona sostanza ostruiscono proprio i negozi coprono letteralmente i negozi che insistono sulla strada. È paradossale che le foglie, il fogliame degli alberi debba oscurare le insegne alla faccia del commercio. Vogliamo rilanciare il commercio e oscuriamo con gli alberi non potati le insegne. Questo denota l'assoluta incapacità ed inerzia amministrativa dell'amministrazione Stefano. Chiariamo una cosa, noi siamo per il verde, che nessuno abbatta mai un albero. Gli alberi sono sacri ma gli alberi vanno potati nell'interesse degli alberi stessi perché se l'albero non viene potato l'albero poi si ammala, l'albero a lungo andare finisce per morire. Quindi chiariamo la cosa perché qualcuno potrebbe speculare, ma ci dispiace per il commercio, non si fa nulla per il commercio a Taranto e abbiamo la beffa di vedere oscurate dagli alberi le insegne delle attività commerciali, insegne per le quali i commercianti pagano profumatamente le tasse. Questa è la beffa. Domanda, ma a Taranto c'è il sindaco? Se lo vedete, fatecelo, presentatecelo perché non si ha più traccia di lui.